Eccoci amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Terribrea sul canale 89. L'Italia vive di gossip e quindi il caso San Giuliano ci diverte tantissimo. Ora stiamo indagando per vedere se è stata spesa qualche lira pubblica per la dottoressa Boccia, così si definisce lei, giustamente, ci mancherebbe altro. Si è spesa qualche lira pubblica perché in verità non avendo nessun incarico di nessun genere, se ne era parlato ma non l'ha avuto, non è stato firmato, ci sarebbe in qualche modo un danno erariale, bisogna vedere. Poi ci piace questo fatto del ministro che non è poi diciamo Raul Bova, ma non importa perché anche io ho trovato moglie, tutti trovano qualcuno, quindi non essendo Raul Bova questa bellissima signora fa un po' chiacchierare. Ma questo è di secondaria importanza, è importante anche oggi la notizia, la notizia nazionale, la prima è che stasera c'è il primo confronto fra Trump e la Kamala, Kamala Harris. Vedremo come se la cava perché purtroppo noi non possiamo dire non ce ne frega niente di quello che succede in America, purtroppo non è così, lo sapete. L'altra notizia riguarda invece proprio l'Europa dopo il discorsetto di Draghi, che attenzione, ieri ho sbagliato, lui è stato presidente della BCE della Banca Centrale Europea, dopo questo discorsetto si sono sentiti tutti un po' in difficoltà, dice se non interveniamo saremo nei guai, ora vedremo cosa farà Ursula. Ma attenzione, Ursula avrebbe dovuto presentare il suo gruppo oggi, non lo ha fatto, e quindi restano ancora insoluti tanti punti interrogativi, perché ci vuole l'uomo giusto, lei ha detto posso essere amico con la Meloni, ma non fa parte della mia maggioranza, quindi noi l'Italia la mettiamo dove è giusto che sia nei rapporti politici. Io però oggi voglio aprire parlando di una cosa molto seria, prendendo spunto purtroppo dall'omicidio che c'è stato qualche giorno fa a Santa Croce, quando abbiamo sentito parlare di problemi che riguardano la raccolta della plastica. E su questo avremo un'intervista con Peppe Scifo, il segretario provinciale della CGL, che lancia alcuni allarme, insomma non è una cosa così semplice. Però la plastica, anzi fortunatamente che c'è in qualche modo un sistema che la raccoglie, però noi sappiamo che per tanti anni la plastica è stata insabbiata, poi il mare se l'è tirato fuori, se l'è portata a mare, poi queste immagini sono molto chiare ed emblematiche. Allora, praticamente, che cosa succede a questa plastica? Ecco, guardate, dove va a finire? Allora, l'inquinamento da plastica è una delle forme di inquinamento più visibili, tutti abbiamo l'idea dei rifiuti che in qualche modo inondano le nostre spiagge. Il problema è che questa plastica si va disfacendo, va a mare e in buona parte si va a disfare, soprattutto quella più, diciamo, più leggera. Certo, quella grande bottiglione di plastica restano e fanno le isole al centro degli oceani. Però, che cosa accade? Che queste microplastiche diventano pericolosissime per l'ambiente, un ambiente marino costiero e quindi rovina questo ambiente, perché è rischiosissimo per il nostro territorio. Allora, vorrei farvi vedere un servizio, perché questo servizio dura tre minuti, l'abbiamo preso da un sito nazionale, perché c'era arrivato anche un servizio delle immagini, se poi ci arrivano da parte di questo incontro che c'è stata a Bari, in cui si è parlato di ambiente, ma anche di microplastica, loro hanno trovato un escamotaggio, ve lo racconterò dopo. Allora, vediamo questo servizio che ci dice quanta plastica finisce in mare e poi in qualche modo finisce anche dentro di noi. Vediamo questo servizio.